Cosa sono i decibel e perché sono così importanti? Quando parliamo di decibel stiamo parlando di un sistema di scale che serve per misurare l'intensità del suono. Questo sistema è composto appunto da diverse scale ed è fondamentale perché nella nostra catena audio, cioè nell'insieme dei dispositivi che colleghiamo, in ogni punto noi abbiamo bisogno di valutare l'ampiezza del segnale, la sua intensità. Potremmo avere bisogno di usare da un anello a un altro un'unità di misura differente, i volti, i pascali, i watt, mentre i dB mi riportano tutto allo stesso metodo di misurazione. Per cui io posso prevedere facilmente che se a un punto io vedo che il livello sale, facciamo un esempio di un dB, posso aspettarmi che in qualsiasi altro punto salirà di un dB e se scende di un dB, scenderà di un dB. E sai da chi è partito tutto questo? Alexander Graham Bell. Per intenderci, la stessa persona che ha brevettato il telefono. E a nessuno è ancora venuto in mente di cambiare questo sistema, che è nato già perfetto. Questo e molto altro, lo insegno al corso fonico breve qui alla NAM di Milano. E tu, quante scale di dB conosci? Scrivilo qui nei commenti.